La vita è tanto bella Solo la musica me salverà Viva la, viva l'amore, viva la musica Una bea oretta in compagnia Se vengo se un'ombretta, te torna l'allegria Dolce acqua e tanta musica E i pensieri se ne va Ti non state preoccupare, Ivan si aspetterà L'importante è avere magna Avere magna Viva la, viva l'amore, viva la musica 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 Amici miei questa sera Voglio brindare a lei Alla donna che amo Che ha dato ad un uomo La felicità Dove sono finite Le mie avventure Che non aveva un passato Non aveva un futuro Ma ora c'è lei Ringrazio il cielo Ho stelle innamorate Che guardate da lassù Mandate un bacio alla mia donna Dite che l'amo sempre più È stato un segno del destino Che me l'ha fatta incontrare Amore E dico guai a chi La voglio rubare a questo cuore Amore Come triste la vita Se non hai un amore Se non hai un amore Ti senti perduto Nelle strade del mondo Ma ora c'è lei Ringrazio il cielo Ho stelle innamorate Che guardate da lassù Mandate un bacio alla mia donna Dite che l'amo sempre più E' stato un segno del destino Che me l'ha fatta incontrare E dico guai a chi La voglio rubare a questo cuore O stelle innamorate O stelle innamorate E' stato un segno del destino Che me l'ha fatta incontrare Che me l'ha fatta incontrare E dico guai a chi La voglio rubare a questo cuore O stelle innamorate O stelle innamorate Bene 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 con Luca e Silvia Benda Eccoci qua in questa terra di mezzo Tra insomma le feste di Natale E invece quelle che saranno i festeggiamenti del Capodanno Vabbè allora buon 28 dicembre Oggi festeggeremo oltre spero anche a molte altre persone Che ci manderete i vostri whatsapp I vostri auguri Se ci sono compleanni, anniversari, qualsiasi cosa Anche un bel anniversario di matrimonio e due amici Ma lo faremo dopo Buongiorno intanto E buon mercoledì caro zio O martedì oggi Buongiorno Alberto E non mi ricordo più No mercoledì Mercoledì 28 Santissimi Innocenti Così si dice Martiri Poi San Gaspare In una testa vuota l'orgoglio Fa la ruota Hai capito? Hai capito? In una testa vuota l'orgoglio Fa la ruota Non male Non male caro zio Giusto Vediamo poi invece cosa ci dice il nostro Barba Nera A qualche istante Allora San Cesario di Arabisso Sant'Innocenti Marti Sant'Euttichio e Domiziano Chi assai ciarla Spesso falla Mi dicono Mi dicono Non è che mi dicono Lo dice il nostro almanaco E insomma E quindi noi lo prendiamo Assolutamente per buono Va bene E direi a questo punto caro zio Di salutare il nostro Capitan Riccardo Come sta Capitan Riccardo? Eccoci qua Buongiorno a lei Buongiorno a tutti quanti Tutto bene Tutto bene Tutto bene Oh va bene Allora io volevo intanto così Per allargare le nostre conoscenze Oggi si festeggia Nasceva Desen Washington Zio famoso attore Che conosciamo tutti Richard Kleiderman Che aveva fatto una canzone molto famosa Poi magari Peschiamo Eh? Pianista Un? Pianista Un pianista Un pianista Molto bravo E poi abbiamo anche Ecco qua i nomi non me li sono riportati 1100 E questi due signori che nascevano Insomma Meno conosciuti Vabbè ho cercato le foto per vedere I visi di questi amici che Ricorda il nostro almanacco Allora abbiamo il primo passaggio del paginone Sapete che è un paginone un po' particolare Perché il paginone è legato All'ultimo dell'anno E non solo perché si balla anche stasera Si balla giovedì Venerdì Insomma è tutta una settimana Da vivere e da divertirsi E chi ci accompagna il zio del paginone? Ilaria Veronese Ilaria Veronese Il senso unico Viva la musica Il senso del pagino Per il supporto Il senso un amico a new one just began and so this is Christmas I hope you have found the need and the deep world the whole that they are a very merry Christmas and a happy new year let's all paint a good one without any fear and so this is Christmas for we can fall strong for we turn the poor the world is on roll and so happy Christmas for black and for white for yellow and red ones let's stop and find a very merry Christmas and a happy new year let's 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 it's a good one without any fear and so this is Christmas and what have you done I know that it's over and new one just begun and so happy Christmas you hope you hope you have found the need and the they want the hope they go young a merry 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 Christmas and a happy new year let's hope it's a good one without any fear and so this is Christmas and what have you done I know that it's over and new one just begun I know 60 I miei ricordi felici di bambina quando andavamo all'alimentari. Incontravamo sorrisi, profumi deliziosi. Le cose più buone perché scelte con cura. E oggi, come ieri, gli stessi prodotti genuini. La stessa qualità. La stessa gentilezza. I prezzi sempre migliori. Oggi, come ieri, lo stesso sorriso. Il tempo passa, la passione resta. Supermercati Ali. Migliora la vita. Ci ospiterà un'incantevole spa a Corvara, nel cuore del Trentino Alto Adige. Ci faremo coccolare da tutti i servizi della spa. Piscina discaldata sulla neve. Saune. Massaggi. Una vacanza per gli sciatori. Ma una vacanza ancora di più per chi non ha mai messo gli sci. Tante camminate nel paradiso delle Dolomiti. Visiteremo l'esclusiva Cortina d'Ampezzo. La suggestiva Innsbruck. E il Museo Swarovski. Ospite con noi Francesca Mazzucato. Impara a ballare con le nostre maestre. Sabrina e Viviana in su di pochi giorni vi trasformeranno in grandi ballerini. I nostri viaggi sono un'esclusiva Viaggi e Cultura. Telefona allo 045 53 45 64. Con Bagutti sulla neve. Bene bene bene. Allora intanto riepiloghiamo un attimo alcune cose. Voi sapete che... No, di qua. Abbiamo il numero del Whatsapp che serve sia per chi magari ancora non ha fatto richiesta del calendario e lo volesse. Sapete che arriva a casa gratuitamente il nostro calendario da tavola 2017. Se avete già ricevuto negli anni passati il calendario basta inviare un Whatsapp o anche un SMS a questo numero con il vostro nome e cognome. Basta. Lo stesso che avete usato gli anni scorsi oppure se no dovete mettere il nome e cognome e tutto l'indirizzo. Ma poi questo numero è anche Whatsapp per mandarci le fotografie, i vostri compleanni, qualsiasi cosa. Poi rimangono i nostri numeri tradizionali, il numero di telefono dove vi risponde lo zio, lo 0444 96 62 74 e poi gli SMS 392 666 0099. Quindi abbiamo una duplice possibilità di intervento con gli SMS. I nostri giochi riprenderanno da inizio anno, quindi insomma anche perché adesso abbiamo ancora le feste in mezzo. Intanto noi cerchiamo di non fermarci, abbiamo tanta musica, tra poco mostreremo anche qualche vostro Whatsapp. Ma adesso dopo, perché continuiamo, il paginone non era finito, giusto Capitano Riccardo? Esatto, mancano alcune pagine. Ecco, lo mostreremo nella prossima canzone. Zio, chi arriva a tenerci in compagnia? Andiamo con Lara Agostini. Lara Agostini, eccola qua. Coglimi il respiro, vieni più vicino a me. Quando io ti manco, dimmi che ti stanca più. Senza il cuore in gola non ci si innamora mai. Ani sui tuoi fianchi, è l'ora che mi incanti ormai. Portami con te. Portami con te. Sei la mia passione, la mia dannazione, tu. Scioglimi col cuore, tutto il mio timore in più. Quando sul mio petto poi ti tieni stretto a me. Prendo il tuo respiro, sento che ti vivo ormai. I fiumini. Sono pazza, io ti amo. Sospiro accanto a te. Se mi petto scommettiamo, che muoio senza te. Muoio senza te. Ma ho voglia di te. Portami con te. Portami con te. Portami con te. Magli di respiro vieni più vicino a me Quando io ti manco dimmi che ti stanca più Senza il cuore ancora non ci si innamora mai Mani sui tuoi pianti e l'ora che mi incanti ormai Ormai, portami con te Forza, portami con te Forza, portami con te Forza, portami con te Un saluto a tutti da Barbara dell'Ottica Barbiero Oggi vi parlerò degli strumenti che trovate presso l'Ottica Barbiero Per la misurazione della vostra vista Esami estremamente veloci, rapidi e senza uso di voce Partiamo con il primo esame che è la tonometria Un esame per la misurazione della pressione oculare a soffio Senza instillazioni di gocce utili per i soggetti diabetici Poi parleremo della retinografia Un altro esame per il controllo del fondo dell'occhio Importante soprattutto per persone che hanno problemi di diabete È in grado di misurare la struttura interna e in particolare il controllo della retina E parleremo della topografia che è un altro strumento veloce per vedere la curvatura della cornea Utile per persone che hanno lenti a contatto o persone che hanno problemi come il cheratocopo Per finire abbiamo l'ultimo strumento Retteratometria a berrometria a visione interna Utile per vedere che problema ha una persona all'interno Perché ci sono delle telecamere che controllano il cristallino E per vedere il risultato dell'esame visivo Per tutti questi esami e per effettuare questi esami Basta chiamare l'Ottica Barbiero al 041 44 0484 Stiamo aperti dall'unedì pomeriggio al sabato Venite a trovarci Io vi ringrazio, vi saluto Un saluto da Barbara dell'Ottica Barbiero L'Ottica Barbiero è la numero uno Bene, bene, bene Caro zio che sia arrivato il momento di festeggiare questi due amici per l'anniversario di matrimonio Insomma ce la prendiamo comoda Visto che... Ah certo Anche perché... Ma loro festeggiano tutti i giorni Festeggiano tutti i giorni Ma abbiamo questa bella possibilità di vedere Quando è iniziata Raffreddore Mi sono commosso quando è iniziata la storia E oggi quindi iniziamo Caro Capitano Riccardo Eccola qua Niente caro zio Salute Salute grazie Ecco Vogliamo dire qualcosa? Niente Non vogliamo dire nulla Guardiamo e basta Era meglio una volta che ho detto Ah bello questo roso Perché erano più giovani Va bene Vediamo la foto dei nostri due amici Sono i figli che ce lo mandano Sono buona ragazzini Eccolo qua Luisa e Luciano Luciano Padella Eccoli qua Facciamo tanti auguri naturalmente Da parte nostra Di tutti gli amici Che li conoscono Di la musica Insomma Auguroni veramente di cuore Per tutti voi E poi vediamo anche qualche whatsapp Che ci avete mandato Auguro a tutti una felice giornata La nostra Alma Buon mercoledì Che oggi ci vedeva un po' a singhiozzo Poi qua scrivono Buon mercoledì Allo staff e telespettatori Vi vedono la musica Guardate come ci riduciamo A po' le feste Ivana Dallerino Insomma Dai noi abbiamo tenuto un po' botta Un po' di più di questa povera giraffa I Giovanni a due carrare Che con questo sberlefo Ci dice buongiorno E poi i nostri due amici Che abbiamo visto E poi un caloroso buongiorno A tutti da Angela e Ivano Zio da Campo San Piero Non so se li conosci Che ci mandano Ecco questo mercoledì 28 dicembre Il segreto per dire meglio Ignora Sorridi Vai avanti Ecco quindi Gli ostacoli del cuore Sono cose che ci sono in internet Insomma comunque grazie Per la condivisione Di questi vostri pensieri Allora Il pom pom per sabato e domenica C'è discoteca E Al pom pom Per l'ultimo di Capodanno E quindi Poi insomma alla fine Vanno avanti fino a tardi Perciò la domenica Non c'è Non c'è nulla Credo Insomma così ce l'ho dato Ecco Cara Anna Magari comunque da un colpo di telefono Verifica E adesso zio Ilenia e il festival 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 Tu ci sei Intorno a noi c'è ancora il tuo respiro E la tua musica che ancora suona Canto per te Ti vedo qui Se chiudo gli occhi Io sento Non ti portate dal vento Canto per te E se mi volto Ti vedo Il tuo ricordo Non morirà mai La tua musica per noi Suonerà Una farfalla Vola sopra i tasti Del tuo piano E un battito di ali Sembra musica Per noi E la vita Spartiti ovunque sparsi Note perse nel silenzio Ma io voglio cantare ancora Come fossi qui La musica io voglio E non un palco vuoto E non un palco vuoto Dove sei? Tu ci sei Intorno a noi c'è ancora il tuo sorriso E la tua musica che ancora suona D quand vaccines Date N sentiment Canto per te e se mi volto ti vedo, il tuo ricordo non morirà mai. La tua musica per noi suonerà, il tuo ricordo non morirà mai, la tua musica per noi suonerà. Gli anni sessanta, i miei ricordi felici di bambina quando andavamo all'alimentari. Incontravamo sorrisi, profumi deliziosi, le cose più buone perché scelte con cura. E oggi, come ieri, gli stessi prodotti genuini, la stessa qualità, la stessa gentilezza, i prezzi sempre migliori. Oggi, come ieri, lo stesso sorriso. Il tempo passa, la passione resta. Supermercati Ali migliora la vita. L'agenzia teatrale Madera Spettacoli presenta per il Triveneto una grande novità del 2017. L'orchestra Franco International Band del maestro Franco Bagutti. 40 anni di musica internazionale in una sera. E che novità! Per informazioni chiama il 338 27 44 660 o scrive... Eccoci, eccoci qua. Lo faremo rivedere naturalmente lo spot appena lo ricarichiamo. Intanto, come sempre, vi dicevo, insomma, se c'è qualche dubbio, qualche perplessità, vi ricordo che il nostro sito vivalamusica.it vi aspetta per darvi tutte le informazioni del caso, naturalmente, per vedere quelli che sono i capodanni e anche le caratteristiche, i menu. Trovate tutto nel nostro sito, ve lo ricordo. Ecco, potete andare direttamente o nel paginone i locali. Non so se il paginone dei feste noi avevamo caricato precedentemente i capodanni. Si trovate anche qui tutti i capodanni. Come vedete, quindi avete l'opportunità di avere così un sunto veloce per decidere cosa fare e cosa non fare. Ecco, trovate proprio anche tutte le informazioni. Dove ce le abbiamo, anche con tutte le varie formule che vi aspettano. Ecco, ricordatevi, tra l'altro, tutti a prezzi molto interessanti. Perciò, se ancora qualcuno di voi dovesse decidere, trovate una grandissima scelta su tutti i nostri locali che vi tengono compagnia. Ecco, trovate ancora le cene di Natale. Insomma, il sito verrà rimesso a posto dopo i primi giorni dell'anno. Bene, allora, adesso un'altra bella canzone. Non so se abbiamo nostalgicamente o se nostalgicamente ritornerà con l'anno nuovo. Che cosa abbiamo, zio, adesso? Abbiamo proprio nostalgicamente. Ah, nostalgicamente. Quindi rientra prima di fine anno. La facciamo rientrare. Ecco, con che canzone andiamo a sentirla? Siccome è in tema di Natale, il nostro capitano Riccardo ha pensato a una cosa molto piacevole. Va bene, vediamo un po'. Mi ritorni in mente, parla come sei, forse anche o di più, tu, mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. La facciamo rientrare. La facciamo rientrare. Grazie a tutti. 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 oggi pomeriggio, ma adesso lo vediamo assieme, iniziamo dal primo dei locali, proprio del nostro paginone, inseriamo anche i capodanni, quindi ci soffermeremo leggermente di più, dunque vediamo un po', il Papio a Casale Relativo, intanto vi ricordo che il 30 è chiuso naturalmente, poi ci sarà la grande notte di Capodanno a tenervi in compagnia, il Capodanno in compagnia dell'Estereo B, lo sapete l'ingresso è di 30 Euro e poi il primo gennaio, solo la sera a Discoliscio Consisto, con Donne, ingresso, maggio, eccoci qua, questa è la domenica sera che vi dicevo, il Palmariva vi aspetta venerdì in compagnia di Omar Lambertini, poi il grande Capodanno con i Rodigini, 38 Euro, lo ricordiamo ancora una volta e domenica primo gennaio la sera ci saranno i Rodigini, lo Shanghai, questo pomeriggio è questa sera, si balla con Michela con Donne, ingresso, maggio, venerdì Carlo e Roger, sabato sera c'è discoteca e domenica pomeriggio e sera Carlo e Roger, la sorgente ristorante e pizzeria Rovolon sui Colli Ugani, naturalmente questo bel locale che vi aspetta comunque anche venerdì con musica e ballo, con le varie forme, ristorante e pizzeria, il Granveglione di Capodanno vi ricordo ancora alcuni posti, musica a 360 gradi con Giada e Alberto a farvi divertire e poi tantissimo pesce, solo 65 Euro a persona, lo ricordo, poi se lo mangiate pesce ci sono anche altre possibilità e poi domenica sera musica e ballo, sempre con le formule tipiche della sorgente che vi aspetta anche a pranzo il 6 di gennaio a 20 Euro con Paola e l'Eureka con un menù molto ricco. Siamo all'Eurobite dove domani sera ci sarà Omar Codazzi, vi ricordo che è una serata evento e quindi le promozioni, come tutte le sere evento e sono sospese, poi il Grande Capodanno con Mauro e i Boomerang, 25 Euro a persona e poi domenica sera sempre Mauri e i Boomerang, vi ricordiamo il Grande Ristorante La Baita che per Capodanno vi aspetta se volete con un menù alla carta per il veglione. Il Black Panther questa sera da liscio moderati con il DJ Jimmy, con Dole Ingresso Maggio anche con i corsi di ballo, dalle ore 22 liscio moderati latino chizomba baciata, poi venerdì bala che ti passa a liscio moderati DJ Marco, il Capodanno in compagnia di Renza Glemo, due formule 30 Euro, il mega buffet oppure menù pizza a 40 Euro e domenica sera il salotto in liscio con il DJ Jimmy. Al Parioli questa sera combi a liscio chizomba e latino, donna ingresso 3 Euro, uomini 5, sempre con consumazione, domani liscio bingo, scuola di ballo liscio, nocce salsa buena e Puerto Rico, venerdì combi a liscio disco e latino con poi il Grande Capodanno in compagnia di Marco Iniagara, la sala disco, la sala latina, 30 Euro, prezzo ribassato. Il Parioli poi domenica sera vi aspetta il liscio festival, il cocktail benvenuto al nuovo anno, donna ingresso maggio. Alla pergola imperiale a Codoniere fra poche ore, dalle 15 alle 20, c'è l'appuntamento con il disco liscio, poi si bassa direttamente al sabato con il veglione in compagnia di Chico Fabri, 35 Euro, lo ricordo, San Silvestro anche per i single e poi domenica, orario continuato, il pomeriggio disco liscio alla sera, i fantasy. All'Olivus, Alzano Venezia, venerdì c'è Manuel Martini, lo ricordo, poi il Capodanno in compagnia di Marco e il clan che sarà con voi anche domenica 1 gennaio, la sera. Al nordeste, Codonia Vicenza, questa sera Stefani Nevada con donna ingresso maggio, venerdì Ilaria Veronesi in senso unico, lo ricordo, poi il Grande Veglione in compagnia dei Millennio con varie formule, 20 Euro con bibitana alcolica, 25 con panettone spumante, bibitana alcolica dopo mezzanotte e mezzo, 15 Euro con bibitana alcolica, se no menù pizza 35 Euro naturalmente che comprende tutto il pacchetto. E poi domenica la sera sempre l'Andrea Millennio, donna ingresso maggio, al P1 Giancarlo Santa Monica Band venerdì, poi il Grande Veglione in compagnia della Danimos Band e domenica sera orchestra che vi comunicheremo al Pompò a Motinello in Galliera Veneta, sabato c'è discoteca, domenica il locale è chiuso, poi il ristorante Pizzeria Fontane Bianche e frate di Santa Giustina in Colle che vi aspetta tutti i giorni, pranzo e cena. Vi ricordo anche questo appuntamento, arriva la Befana il 6 gennaio, 20 Euro a cena con un ricco menù in compagnia del DJ Paolo Bortolami che organizza questa bella serata. L'istodense in desiderio nei di fonte, venerdì il locale è chiuso, si va al Grande Veglione con Claudio e pagina 4, lo ricordo, e poi invece domenica 1 gennaio dalle 16 si balla con Anna Lisa. Vi ricordiamo anche l'ultimo appuntamento 6 gennaio, a tavola con il fungo, il fiore trevigiano a 20 Euro a pranzo, non dimenticatelo. Il Melody, Rossella Ferrari Casanova questa sera, ospite d'eccezione, Francesca Salmieri, tutte le sale aperte in latino, sala disco, DJ Ryan e sala graffiti, donna ingresso 2 Euro senza obbligo di consumazione. Venerdì che colabibenda, la vigilia del gran botto, buffet per tutti con tutte le sale aperte, poi il Capodanno in compagnia di Lara Agostini, menù di Capodanno, gran menù a 35 Euro, dopo l'una e mezza ingresso 15 Euro con vività analcolica, domenica 1 gennaio si balla con i Sabia, Pandora e Panettone per tutti. Il Paradiso a Seddico Belluno, venerdì Mariana Lanteri con tutte le sale aperte, il Capodanno con i Pionieri, l'ingresso è soli 20 Euro e poi domenica sera è il liscio con la nostra Cristina Divina. Al ristorante e pizzeria Falcodora a Curtarolo, locale con tante specialità di carne e pesce, naturalmente, oltre alla pizzeria, con tante proposte interessanti come ritrovo i gruppi scolastici o il giro pizza con impasti speciali, il mercoledì e il giovedì, vi aspetta questa sera la serata latina animazione dei maestri Marco e Chiara con il menù pizza 12 Euro, menù 16 Euro, ecco 7 in 4 potete anche prenotare il giro pizza. Venerdì e sabato domenica vi scolisce con il DJ Mario da Rai che sarà protagonista anche al Capodanno e anche con le musiche caraibiche della scuola Ballaora, lo ricordo, menù pesce adulti 78 Euro, bambini 30, menù carne adulti 65 Euro, bambini 25, quindi ricordatevi al falcodoro l'acquario è stato del Capodarsico, venerdì il Paradiso Latino, tutte le sale aperte, Capodanno in compagnia dei Sabia 35 Euro, lo ricordo il costo del Capodanno, se volete dopo le 23-20 Euro, dopo mezzanotte 15, dopo l'una e mezza 10 Euro con tutte le sale aperte e poi domenica 1 gennaio il locale è chiuso, siamo al TITCADENSE Pizzeria Campagnoli di Bruggine, mangia e balla domani sera, ballo liscio e nulliscio, stuzzichini e attrazioni vari, venerdì balli e moderati, con tutti i vari tipi di ballo, il Gran Veglione, ricco buffe, meravigliosi premi, spumante al tavolo, due tradizionali minestre di fagioli e tante altre sorprese, 35 Euro, lo ricordo, poi domenica pomeriggio e sera, no solo alla sera, solo sera domenica 1 gennaio, solo sera al TITCADENSE PIZZERIA Campagnola di Bruggine, ve lo ricordo, ecco con il ristorante di pesce e pizzeria, e poi grandissimo Capodanno che darà poi lo start alla festa d'inverno a Piazzola sul Brenta e il Capodanno con l'orchestra di souvenir, con Alex di Radio Sorriso per l'animazione, con un menù ricchissimo, straordinario, 75 euro gli adulti, 40 ragazzi, fine 12 anni, curato proprio al ristorante Pizzeria Falcodoro e vi ricordo anche il pranzo in musica con l'orchestra Maurizio Medeo, al ristorante Alfione Peschiera del Garda, il 6 di gennaio con tantissimi ospiti importanti, un ricco menù a 40 euro. E adesso un po' di musica con la fama Robè. e mi corazon idiota, sempre brillarà, io te amare, te amare por sempre, nena no ti vieni se da calma, che i tuoi sbaglianti si vanno a attrasare, io te amare, te amare por sempre, nena no ti vieni se da calma, che i tuoi sbaglianti si vanno a attrasare Eccoci qua, ultima parte della nostra trasmissione, quindi naturalmente ancora grazie a tutti voi spero, insomma, vi state preparando, abbiamo dato dei consigli per questo capodanno che cosa arriva zio? Vedo con questo bel drone arriva il nostro Renato Rizzi, intanto prima di aver ascoltato la canzone dei nonni per i nipoti, dove li ho scritti tutti qua, Davide e Daniele ospiti dai nonni, Teo e Rinaldo, la canzone dei nonni e fatti i bravi, fatti i bravi, caro Davide e anche Daniele Ed eccolo qua, Renato Rizzi degli incontri Nuvole di un passato che non scordi più fredde nuvole, ma il sole le riscalderà e pian piano svanisce quel brivido C'è un'alba nuova per noi Cieli incantati E immense praterie Frasi, parole, poesie Nel nostro viaggio Nasce una favola Tu principessa Sei dei sogni Sogni della vita mia Il tuo sguardo Il tuo sguardo che mi ha acceso il cuore Non è fantasia È una verità Questa vita che Ho sognato con fede nell'anima Giurando il mio amore per te Cieli incantati E immense praterie Frasi, parole, poesie Nel nostro viaggio Nasce una favola Tu principessa Sei dei sogni Sogni miei Cieli incantati E immense praterie Frasi, parole, poesie Nel nostro viaggio Nasce una favola Tu principessa Sei dei sogni 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 miei L'ultima alla penultima Favola Favola questa bella canzone Renato Rizzi e gli incontri Tra l'altro in sequenza Caro zio abbiamo molta musica Quindi per l'ultima canzone Vedo un nonno Abbiamo parlato di nonni Ma vedo anche i giovani E andiamo a fare gli auguri E anche un altro nonno Il papà di Marco E il clan Il nonno Pupi Che oggi è il suo comunale Tanti auguri da Maria Adriano Di Vigo d'Arze E anche da parte nostra Tanti, tanti auguroni Poi Gian Paolo Che è un duo Ciao Gian Paolo Con la buona giornata Ci ascoltiamo proprio Bene bene Auguri a nonno Pupi Eccola qua È l'orchestra Dino Le pulsazioni aumentano Un bacio tira l'altro Ma come andrà a finir Col cuore sette cieli Son cose da impazzir Son dolci calamite Due labbra innamorate Un bacio non si nega A chi lo chiederà C'è nulla da inventare Son come l'acqua calda Dai tempi più lontani Son la felicità Un bacio tira l'altro Son come le ciliegie L'affare poi si complica Le pulsazioni aumentano Un bacio tira l'altro Ma come andrà a finir Col cuore sette cieli Son cose da impazzir Al cinema di sera Gustando un film d'amore Le scene un poco erotiche Il cuore di Sant'Urbar Due divi che si baciano Che si amano follemente Al buio fra la gente Ci sembra ad essere noi Un bacio tira l'altro Son come le ciliegie L'affare poi si complica L'affare poi si complica Le pulsazioni aumentano Un bacio tira l'altro Ma come andrà a finir Col cuore sette cieli Son cose da impazzir A presto Ma come andrà a finir Un bacio tira l'altro, son come le ciliegie L'affare poi si complica, le pulsazioni aumentano Un bacio tira l'altro, ma come andrà a finir? Col cuore ai sette cieli, son cose da impazzir Col cuore ai sette cieli, son cose da impazzir Son cose da impazzir, l'orchestra Dego E con invece Daniele Cordani, caro zio Andiamo a salutare a Adriana, lui dice che ci fanno gli avori E anche voi, e tutta la nostra famiglia E vi ricordo le opzioni del Falco d'Oro Hanno messo a disposizione sei posti, sei tavoli a disposizione Per chi vuole cenare l'ultimo all'anno E naturalmente solo cenare Ancora quindi senza veglione è la carta Bene bene, grazie al nostro zio, grazie al nostro capitano Riccardo Naturalmente, grazie a tutti voi con Daniele Cordani Vi diamo appuntamento a domani Viva la musica Mi accendo, vivo sopra il tuo tempo Con il tuo movimento io fuoco di vento e brucio per te Portami fortuna mia bella luna Per questo amore grande come il mare Mi fa impazzire, mi fa volare Mi fa sognare di rifar l'amore Sei la fortuna mia bella luna Per questo amore grande come il mare Mi fa impazzire, mi fa volare Mi fa sognare di rifar l'amore Con il sole, con la luna Questa notte come te non c'è nessuna Ora dimmi che mi ami Ma tu fuggi ballestrate ad altre mani Vento, balli al centro del mondo Con il tuo movimento sei folle e tormento Io muoio per te Tu mi guardi, mi accendo Vivo sopra il tuo tempo Con il tuo movimento io fuoco di vento e brucio per te Portami fortuna mia bella luna Per questo amore grande come il mare Mi fa impazzire, mi fa volare Mi fa sognare di rifar l'amore Mi fa sognare di rifar l'amore Se la fortuna mia bella luna Per questo amore grande come il mare Mi fa impazzire, mi fa volare Mi fa sognare di rifar l'amore Prendi il mio cuore Mi fa sognare di rifar l'amore C'era fortuna mia bella luna Per questo amore grande come il mare Mi fa impazzire, mi fa volare Mi fa sognare di rifar l'amore Prendi il mio cuore Mi fa sognare di rifyar l'amore Grazie a tutti.